Salve bella gente qui è Manu e oggi ragazzi siamo qui tornati con il terzo episodio di Mario Kart 8 Deluxe Ragazzi se vi siete persi gli altri video mi raccomando li ritrovate sul canale quindi fateci un salto Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e lasciate un bel pollicione all'insù sotto questo video Allora Amici miei iniziamo subito con il terzo trofeo di quest'oggi Mi raccomando attivate la campanella delle notifiche per stare sempre aggiornati su tutti i miei video Oggi ragazzi nello scorso video abbiamo giocato anche con Luigi E in questo video abbiamo il trofeo Stella Allora abbiamo l'aeroporto del sole, la laguna del fino, l'elettrodromo e il monte di Wario Cosa sta a significare questo? Possiamo scegliere Allora monte Wario no perché so che ci sarà un'altra partita dove metterò Wario Vabbè Direi che qui possiamo anche scegliere tranquillamente Possiamo tranquillamente scegliere noi e direi di andare con Vediamo un po' Con Cupa Andiamo con Cupa Ok Allora a Cupa Gli equipaggiamo Allora se premiamo più o meno come potete vedere ci fa vedere le statistiche Allora direi di andare con questo Ed mettiamo poi come ruote mettiamo queste perché no? Ok poi l'aliante ok ci siamo va bene Allora aeroporto del sole, laguna del fino, elettrodromo e monte di Wario Iniziamo il Gran Premio Ragazzi spero altamente che questa serie vi piaccia e vi stia piacendo Perché se vi piacerà questa serie ve lo prometto vi porterò anche altri Mario Kart Perché ve ne posso portare almeno altri 4 se vi devo dire la verità Comunque aeroporto del sole, trofeo, stella Iniziamo Guardate che bello il nostro Cupa Uno Via Bella sta partenza Allora Non ho preso alcun oggetto Ok Attenzione Allora saliamo sopra l'aereo Ok Adesso facciamo una roba del genere Prendiamo le monetine E andiamo Ok Doppio dado Potevo prenderlo però vabbè Atterraggio è quello qui C'è l'aereo E adesso possiamo andare da questa parte C'è l'aereo C'è l'aereo Andiamo così Molto bene Molto bene Questa volta scendiamo giù Oh no raga la farfalla Oh no raga la farfalla Riferisco che mi colpisci qui Oh così ho colpito anche gli ossi Ma cosa è successo Mi ha attirato il guscio Ok Siamo vivi Siamo vivi Attenzione Siamo vivi Va bene Come così Doppio E scendiamo Facciamo attenzione Vorrei andare qui Perfetto ce l'ho fatta Tanto manco io come Yoshi Allora Andiamo di qua Due Hai preso una bella banana Boom Andiamo Subito Ok Due Tre E andiamo No La farfalla Guarda che io devo arrivare Io devo arrivare secondo perché Perché è per colpa della farfalla Guarda guarda Già stiamo partendo malissimo Allora Posso fare una roba del genere Forza Che culo Che culo Che culo Cosa è successo Ce l'abbiamo fatta L'importante L'importante è essere arrivati prima Ragazzi utilizzatela Quella Scorciatoia Vi può salvare Come è successo a me Meno male Meno male Raga Voi lo vedete Come sono sfigato Cioè Perché Non credo di giocare male Poi fatemelo sapere Tipo Fatemelo sapere nei commenti Mi dite Mi dite Ah non fai schifo Perché raga Non credo di giocare male Cioè sono sfigato io Che mi arrivano tantissimi oggetti E quindi Rischio la posizione Trofeo stelle Laguna Delfino Allora Vediamo Seconda corsa Mamma mia Che ho partenza Allora Yoshi Oggi ce la vedremo Tutta con lui Ok E due Allora Qui abbiamo tantissime strade Yoshi Sembra che mi frega La scia Non ti preoccupare Yoshi Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare Allora Due Uno di qua Ok 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 Troppiamo un po' di banane qua Doppio Sto arrivando Yoshi Sto arrivando Non ti preoccupare Iniziamo da te Vado qua Cosa è successo Scusami Ecco Vendetta Presa Andiamo Ok Adesso Andiamo di qua E andando di qua Sono riuscito anche a schivarmi Il guscio rosso Guardalo 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 quanto è Incazzato In teoria Siamo sott'acqua Vabbè Allora Raga Io non so Se ci sono banane Sì Una è qua Mamma mia Pensavo di averla presa Va bene Procediamo Procediamo Yoshi Yoshee forse Ho preso la banana Ottimo E andiamo Ok grande cupa Andiamo 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 raga Allora io adesso mi tengo Su super clapson Se ormai dovesse arrivare qualche farfallina E due Mamma mia non l'avevo vista quella banana raga Ok Allora facciamo il percorso come si deve Dovevo utilizzarlo per forza raga Ok Ok procediamo Crediamo sono caduto perché sono stupido Va bene Allora facciamo questo Una bella derapata Molto bene No la farfalla Non è vero non è vero Muoviti No muoviti Sì Vaffacculo Raga c'è sempre la farfalla Che mi vuole sempre Uccidere Meno male ce l'abbiamo fatta Attenzione Ottimo Ottimo così Procediamo Trofeo stella Elettro dopo Un pente Un punto di DJ Musica A profusione Terza corsa Mamma mia raga Che giocate Andiamo Allora Allora Attenzione Che abbiamo preso la scia Attenzione Yoshi No aveva la banana Va bene Ok ok Andiamo Accelera E io ho scendato Al corso verde Come può anche andare bene Allora Vedete questo pungo Tenetelo Lo dovete tenere Perché sarà utile Almeno che io Non cada Ok Cominciamo a derapare Mamma mia Mamma mia Yoshi Che c'è recuperato Perché gli NPC Sono così Allora Chiediamo Chiediamo Molto bene No la farfalla Addio Monetine Ok Allora Mamma mia Tutte le volte Le farfalle A me Devono arrivare Allora Devo prendere Un doppio Facciamo Seconda posizione Andiamo Adesso Facciamo Questa Attenzione Alla pianta Piragna Perché vi Possono Colpire E procediamo Ok Allora Per il momento Le banane Me le tengo Via Via Tutti via Bella Questa curva E procediamo Adesso Procediamo Per il percorso Verde Ma non ci siamo Andati Ok Mannaggia Al calamaco Ok Boom Ok Mamma mia Quel guscio Mi ha fatto Cagare Addosso Veloce Che culo Ok Ok Meno male Meno male Come stava arrivando Il guscio Raga Mamma mia Voi non avete idea Che ansia Non ne avete idea Va bene L'importante È che siamo arrivati I primi Ok Allora ragazzi Procediamo Con la quarta E ultima Corsa Del trofeo Stella Monte Wari Ultima corsa Questa è una Qui Guardate Guardate cosa Vi faccio vedere Mamma mia Il risultato Anche se L'ho fatta Malissimo Va bene Procediamo Procediamo Secondo giro Vedete Ok Allora Possiamo Anche andare Normalmente Ci possiamo buttare Però Raga Prendete L'aliante È molto meglio Ovviamente Non mi fa I pazzi Oh E fammelo Molto bene Ok Ok Boom Veniamo qui Perché l'acqua ci rallenta Molto bene Molto bene Allora Se qui Venite colpiti Non vi preoccupate Che dietro c'è Vedete Quel cosa Che vi dà il busto Però adesso Io sto facendo Una cosa Che non dovrei fare Vedete Altra strada Segreta Qui Prendiamola E No No Il calamaco Tutto La bomba Eh Vabbè Non vedo niente Ragazzi Non vedo niente Oh Levatevi Terzo Giro Uno No Ragazzuoli Avevo un fungo Ok La scendiamo Scendiamo dalla vetta Ok Doppio Spadricate tutto il tempo Per jump No Mannaccia a te Baby Rosalindo Ok Andiamo 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 Forza Raga Forza Andiamo Che cosa Che cosa è successo Che è morto subito Il deltaplano Vabbè Allora No Non è possibile Eh Vabbè Che sfiga Ragazzuoli E niente Che vi posso fare Che vi posso fare Sono arrivato un'altra volta Secondo No Non ci voglio credere E vabbè Niente Vabbè Raga Fa niente Fa niente Fa niente Dai Ce la siamo giocata bene Ce la siamo giocata bene Però Raga Che nervoso Che Alla fine Arriva sta Baby Rosalinda E ti lancia il fuoco Dai Che fallo Va bene Trofeo stella Ah Eccolo Eccolo Era stato il ragazzo Ringling Alla Pezzi Di merda Eh Magari Fosse Tutto 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 Primo Posto E poi Arriva Baby Rosalinda E qua Tutti Qua ho fatto Un sorpasso Mamma mia Va bene Va bene Dai Dai Andata Bene Dai Eccolo Qua Il nostro Trofeo Stella Cupa 57 punti Purtroppo Però raga Fidati Ho avuto Sfiga Va bene Siamo andati bene E ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Se è stato così Mi raccomando Lasciate un bel Polizio Nell'insù E se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale Ragazzi Mi raccomando Attivate la campanella Delle notifiche Per stare sempre aggiornati Su tutti i video Che carico sul canale E ragazzi Noi ci becchiamo Con il prossimo video Di Mario Cartotto Deluxe Dalla vostra mano di quartiere E boos E tutto Bella Dalla vostra mano di quartiere